prepariamo insieme i filetti di orato al cartoccio con pomodorini e olive e capperi innanzitutto prepariamo il condimento quindi tagliamo i pomodorini e condiamo con aglio capperi olive prezzemolo olio extravergine di oliva sale e mescolate a questo punto prepariamo la carta forno che andrà ad accogliere la nostra orata ripiegate la carta forno su se stessa e fermate le estremità con uno spago e adesso il nostro cartoccio pronto quindi adesso inserite il filetto di orata aggiungete il condimento se volete ancora un filo d'olio e quindi richiudete il cartoccio cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 20 minuti ed ecco il nostro filetto di orata al cartoccio con olive e capperi pronto perfetto pronto da gustare